Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it Le zanzare in estate possono essere molto più che un semplice fastidio In questo video abbiamo già visto quali sono tutte le armi che abbiamo a disposizione per difenderci dalle punture di questi insetti Ma siamo rimasti con degli interrogativi Perché le zanzare pungono e soprattutto perché pungono alcune persone più di altre? Le risposte in questo video Se ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale Esistono moltissimi tipi di zanzare, circa 3500 specie, di cui circa una settantina vivono da noi in Italia La più comune è la Culex pipiens Che nella bella stagione può vivere da 12 a 132 giorni e di solito punge di notte Non ci facciamo però mancare la Edes albopictus, la zanzara tigre Che oltre a pungere anche di giorno produce delle uova in grado di resistere per tutto l'inverno Nonostante le diversità tra le varie specie di zanzare, tutte pungono per lo stesso motivo Il pasto di sangue è necessario alle femmine per la maturazione delle uova I maschi, ma anche le femmine quando non devono nutrire le uova, si cibano di nettare dei fiori Quindi, in quanto insetti impollinatori, hanno una loro utilità Inoltre, costituiscono un'importante fonte di cibo per lucertole, pipistrelli, uccelli, ragni e altri insetti Insomma, hanno il loro posto nel mondo, anche se preferiremmo sterminarle senza pietà Compreso il motivo per cui pungono, resta la domanda Perché proprio me? La domanda se la sono posta anche gli scienziati Scoprendo che le zanzare vengono attratte di più da alcune persone rispetto ad altre In funzione agli odori della pelle e del respiro che loro percepiscono grazie ad un sofisticatissimo naso Più che di naso, si parla di sistema di puntamento olfattivo Costituito dalle due antenne che affiancano la proboscide che utilizzano per pungerci Il composto chimico che le attira di più in assoluto è l'anidride carbonica che emettiamo durante la respirazione E' per questo motivo che persone in sovrappeso e donne in gravidanza che producono una quantità maggiore di anidride carbonica Attirano maggiormente le zanzare Questo spiega anche perché ci ronzano intorno alla testa mentre dormiamo Semplicemente raggiungono la zona in cui la concentrazione di anidride carbonica prodotta dal respiro è maggiore Si stima che riescano a sentire l'anidride carbonica a 164 metri di distanza Quasi come uno squalo col sangue A proposito di sangue, le zanzare gradirebbero maggiormente il gruppo zero rispetto agli altri Nel caso delle zanzare essere sportivi è un problema Durante l'attività fisica infatti aumentano contemporaneamente tre fattori che nel complesso sono un invito a pranzo per le zanzare L'acido lattico nei muscoli, la temperatura corporea e il sudore In particolare nel sudore sono presenti moltissime sostanze che attirano le zanzare come l'acido urico o l'ammoniaca L'odore della nostra pelle è influenzato anche da ciò che mangiamo e beviamo Le zanzare gradiscono molto la birra mentre detestano l'aglio, il pompilmo, la menta, il basilico E alimenti ricchi di vitamina B come l'avena, il reso integrale, la crusca, il lievito e le uova La presenza di colonie batteriche sulla pelle attira moltissimo le zanzare E infatti queste tendono a pungerci sulle caviglie proprio perché attirate dai batteri presenti sui piedi Anche i livelli elevati di steroidi e ormoni sulla pelle sono molto graditi Infine pare che le zanzare siano attratte dai colori scuri e dal rosto Abbiamo visto perché le zanzare pungono e soprattutto perché pungono alcune persone più di altre Se hai domande lascia un commento Un saluto dalla dottoressa Valentina di Semprefarmacia.it La tua farmacia sempre con te